Ciao a tutti da Diego di TecnoFan.it e benvenuti in questo nuovo video Oggi vi parlo di un nuovo paio di auricolari wireless Strano eh? Ultimamente ne ho provati davvero pochi di questi auricolari Però questi mi hanno incuriosito perché? Perché sono degli auricolari che sono venduti su Amazon ad un prezzo di 37 euro E hanno la NC Active Noise Cancelling Quindi ho detto strano, qui c'è qualcosa di strano Mi sembra che ad un prezzo del genere è difficilissimo trovare degli auricolari con questa funzione In più non è che hanno solo questo eh Perché hanno una durata della batteria di 6 ore Il Bluetooth è una versione 5.0 con il chip di Qualcomm E la funzione di cancellazione del rumore durante la chiamata Sempre di Qualcomm che si chiama CVC Nella versione 8.0 quindi l'ultima versione Con il case la batteria aumenta fino a 28 ore Sono certificate IPX7 e su ogni auricolare ci sono esattamente 3 microfoni Sinceramente ho detto cavoli, cioè com'è possibile? Bene, adesso giriamo la fotocamera e vi spiego come funzionano questi auricolari Vediamo velocemente cosa offre la confezione Oltre a tutti i classici manualetti Che c'è anche la lingua in italiano Abbiamo questo box in scatoletta di cartone Dove all'interno troviamo il cavetto USB Type-C per la ricarica degli auricolari E in più questo sacchettino con dentro una miriade Ma davvero, cioè guardate, davvero una miriade Adesso non riesco neanche a tirarli fuori Di gommini per il vostro orecchio Ce ne sono di tre taglie Small, medium e large E come sempre io vi consiglio assolutamente di provarli tutti Perché sono questi che faranno la differenza Per quanto riguarda l'ascolto della musica L'isolamento passivo Il funzionamento anche del ANC E soprattutto il volume Perché sono quelle che vi isoleranno un pochino dall'esterno Il case L'apertura del case Accende gli auricolari Il Bluetooth è la versione 5.0 Molto veloce nel collegarsi allo smartphone Come ho detto hanno l'ANC Sono certificati IPX7 E hanno ben tre microfoni su ogni auricolare La durata della batteria di ogni auricolare Diciamo in se stesso è di sei ore Con il case arriva fino a 30 ore Il case si ricarica attraverso la porta USB Type-C Che trovate qua Ed è un case che non è proprio piccolissimo Diciamo è tascabile Tuttavia se lo infilate dentro la borsetta C'è questo comodo Anche carino L'accetto in cuoio Che lo afferrate e le tirate via Ma adesso andiamo a vedere un pochino gli auricolari I auricolari che sono certificati IPX7 Quindi sono resistenti agli spruzzi e al sudore Hanno lateralmente un pannello touch E questo pannello touch si permette di fare veramente tutto C'è la possibilità anche di controllare il volume La possibilità di chiamare l'assistente vocale Di mettere in pausa il brano Mandare avanti, indietro E abilitare o disabilitare il sistema ANC Non mi ricordo i passaggi Quindi vi invito a leggere il manuale di istituzioni Oppure andare a leggere la recensione su technophone.it Perdonatemi ma ne ho provate veramente tantissime E ho paura di confondermi Hanno tre microfoni Questi tre microfoni supportano il sistema di cancellazione del rumore di Qualcomm E sono davvero ottimi per quanto riguarda le telefonate Sono abbastanza leggeri Hanno questo design un pochino particolare Ma adesso li andiamo ad indossare Vi faccio vedere come stanno questi modelli Se vi piacciono dai Vediamo innanzitutto come si indossano questi auricolari Bisogna inserirli chiaramente all'interno del nostro orecchio E poi ruotarli verso il basso In modo che ci accorgiamo comunque quando sono inseriti correttamente Devo dire che non amo particolarmente questo design E devo dire che li ho trovati leggermente scomodi Questo per quanto mi riguarda Nella confezione ci sono tantissimi gommini Che serviranno poi appunto a trovare la giusta misura per il vostro orecchio E diciamo la misura giusta è fondamentale per avere una maggiore qualità Durante l'utilizzo dell'ANC Ma parliamo un pochino di questo ANC L'ANC c'è, esiste Si attiva con un doppio tocco sull'auricolare E devo dire che è molto molto leggero Cancella delle soglie di rumore Però ad esempio io lo provo spesso in casa Con il rumore della lavastoriglie Ok? È un rumore fastidioso Che quando è acceso La vibrazione continua Ebbene con gli altri auricolari che ho provato Viene cancellato Con questo lo sento leggermente ancora un pochino Quindi comunque c'è L'ANC c'è Non è proprio performante al massimo Però devo dire che nel complesso Per 36 euro diciamo che ci può stare Non hanno la modalità ambiente Quindi possiamo tenere l'ANC acceso o spento E l'isolamento in ear non è come avere il gomino in silicone Diciamo classico Mentre per quanto riguarda la qualità dell'audio Sono una qualizzazione impostata verso le frequenze medio-bassi Quindi tanti bassi Il volume c'è È appagante Diciamo non è altissimo Però devo dire che È accettabile Ok? Mentre per quanto riguarda la riproduzione audio Ho trovato un pochino di difficoltà Nelle frequenze medio-alte Tende un pochino ad avere il suono un pochino cupo Tuttavia anche in questo caso Per la fascia di prezzo E il tipo di auricolari Devo dire che Siamo in linea Non sono proprio le mie preferite Però è diciamo questione di gusti Oramai se seguite le mie recensioni Sapete che non mi piacciono tantissimo Le auricolari con l'equalizzazione impostata verso le frequenze basse pompate Tuttavia Niente È una questione diciamo di gusti Mentre per quanto riguarda le telefonate Quindi la conversazione Devo dire che da questo punto di vista qua Mi hanno convinto più della riproduzione audio Funzionano bene Il nostro interlocutore ci sente Ci sente leggermente lontano Però funziona bene la cancellazione del rumore Che in questo caso è di Qualcomm E ragazzi quando leggete che c'è Qualcomm CVC 8.0 È davvero una garanzia Bene siamo arrivati al momento delle conclusioni Me le tolgo Le rimetto nella loro confezione Che hanno l'aggancio magnetico Le chiudiamo Vi lascio il link Se siete interessati per l'acquisto Sotto alla descrizione del video Il prezzo è di circa 36 euro e 99 centesimi Ogni tanto ci sono delle promozioni Come sempre vi consiglio di Cliccare il link Salvarla nella lista desideri Oppure aggiungerle direttamente al carrello E attendere qualche giorno Perché nel caso di offerta lampo Ebbene vi arriva una notifica Con questo vi saluto Ciaoone da Diego Al prossimo video Che probabilmente sono di nuovo auricolari wireless Ciao Ciao